La domanda è semplicissima e la risposta è ancora più semplice. Quadrato è un calciatore fortissimo, un calciatore che la famiglia della Valle ha fatto un grande sforzo per portare a Firenze per questa compartecipazione. Adesso bisogna soltanto mettersi seduti insieme al calciatore, quando tornerà, e da lì capiremo tutto quale sarà il futuro di Juan Quadrato. Noi faremo di tutto per convincerlo a restare qui con noi, però dovremo capire quando si metterà seduto davanti a noi. Non sono ancora arrivate nessuna offerta ufficiale. Dobbiamo parlare con il calciatore, dopodiché dobbiamo decidere il meglio per la Fiorentina, ma la nostra voglia è che Juan Quadrato rimane con noi. Per questo l'abbiamo riscatato, abbiamo fatto questo sforzo. Abbiamo terminato. Faccio solo fare la foto...